Future and the city. Il futuro e la città. È un progetto che è in corso da diverso tempo. Questo è un primo libro provvisorio, alcuni risultati parziali. Che cosa significa il futuro e la città? Io mi considero un fotografo viaggiatore e per molto tempo ho girato il mondo alla ricerca delle tracce del passato, soprattutto in Oriente, a Venezia, in Marocco. Quindi cercando il fascino di tempi che non ci sono più, in cui i viaggiatori viaggiavano in un altro modo. Quindi alla ricerca del fascino di questi posti. Poi però mi sono reso conto che le città, se le si osserva con attenzione, mostrano, svelano anche tracce del loro futuro. E allora ho incominciato a esplorare alcune delle metropoli più grandi, in più rapida trasformazione del mondo di oggi. Sono stato a Mexico City, a Dubai, a Singapore, a Tokyo, a Shanghai, a Hong Kong, a Seoul, ma anche a Kuala Lumpur, a New York, a Miami e perché no anche a Milano. Per esplorarle alla ricerca delle tracce del futuro, non per capire come queste città sarebbero diventate fra 50 o 100 anni, ma per capire come la città, la città in astratto, la città in generale, potrà diventare. E ho trovato intanto molta diversità, perché lo spirito del luogo è estremamente visibile molto spesso e le fotografie, l'esplorazione fotografica lo rivela. E allora che cosa ha guidato la mia esplorazione? Beh, come sempre, io sono un fotografo istintivo. Io viaggio con la macchina fotografica, abbastanza leggero, con il naso all'insù e quando trovo qualche cosa che mi ispira, scatto, scatto a raffica con quella particolare tecnica, quel particolare linguaggio che uso da un'azzina d'anni e che consiste nel muovere la fotocamera con tempi lunghi durante lo scatto, per ottenere delle immagini mosse, che quindi non rappresentano i dettagli, ma rappresentano l'anima dei luoghi, rappresentano le atmosfere, in qualche modo rappresentano quello che del posto ci si ricorda quando si è andati via. Che cosa ha guidato la mia esplorazione? Ho cercato di esplorare alcuni aspetti costanti di queste città, che sono per esempio la dimensione, la vastità. Stiamo parlando di città che raggiungono già oggi 25 milioni di abitanti, come Mexico City, eccetera, eccetera. Quindi sono città che non finiscono mai. Dall'alto mostrano dei panorami, forse potrebbero essere considerati anche agghiaccianti, ma io non voglio dare giudizi di valore. Città infinita che si estende, cresce, 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 a macchia d'olio e invade tutto il panorama. Un'altra costante sono le torri, i grattacieli. Le città oggi crescono verticalmente, sempre più alto. Questo si vede nel centro finanziario di Shanghai, si vede ovviamente a New York, ma si vede anche a Dubai. Queste torri che incutono rispetto, mostrano potenza. Molto spesso sono torri, sono uffici, non sono torri residenziali di grandi corporation, di grandi gruppi finanziari. Sono un po' come le torri del medioevo, che mostravano la potenza del proprietario terriero. Adesso mostrano la potenza delle organizzazioni. Queste città poi connettono persone. Quindi il tema della connessione mi ha guidato tanto. La connessione che significa i trasporti, le metropolitane. Spesso sono metropolitane scoperte, che viaggiano all'esterno, ma anche ponti, anche modi di unire, di accorciare le distanze, che caratterizza molte di queste città. Il traffico delle automobili. Un altro tema è stata la folla. Queste città sono piene di gente. Tokyo, Tokyo, la densità abitativa. E allora ho cercato di rappresentare alcuni luoghi simbolici. Il famoso incrocio di Shibuya a Tokyo, in cui quando i semafori diventano verdi si riversano forse due o tre mila persone nello spazio di meno di un minuto. Alcune immagini in una prima fase del progetto sono rappresentate in questo libro. Queste sono immagini che andrebbero viste in grande. Sono pensate per essere rappresentate con dimensioni di almeno due metri. Il libro si apre con l'immagine della città infinita e si apre con una foresta, che non è una foresta di alberi, ma è una foresta di grattacieli. È l'immagine di New York vista dall'alto del grattacielo che ha sostituito le Torri Gemelle. Un'altra città infinita che è Mexico City. Questa è una visione dalla Torre Latino, che è un grattacielo importante nel centro della città. E poi Shanghai. Shanghai è un'altra selva diversa, ma fittissima. Ho inserito in questa selezione di città Vancouver, che è una città piccola, ma è interessante, pensando al futuro, perché è considerata una delle città più vivibili al mondo, a misura d'uomo. Questa è una dimensione che mi interessava esplorare. Connecting. Il capitolo si apre con una immagine della metropolitana di Dubai, che mi ricorda le scenografie di Blade Runner, un film che per molti versi nell'immaginario ha anticipato le città di oggi e forse anche del domani. Questa vuole essere una esplorazione puramente visiva. Che cosa ho trovato in queste esplorazioni? Beh, ho trovato molta diversità. Molto spesso l'utopia e la distopia convivono insieme. Ho trovato dei panorami agghiaccianti come questi quartieri di case popolari, centinaia di edifici, di grattacieli, tutti identici, ma ho trovato anche questo amore dell'arte, alla rappresentazione di colori che si vede a Miami. questa attenzione al divertimento, alle luci che trovate a Las Vegas. E un altro aspetto è quello del wonder. Questo corrisponde a volte alla filosofia degli architetti di oggi che costruiscono questi edifici anche per catturare l'attenzione. Il caso tipico è Dubai con questo grattacielo che si chiama Burj al-Khalifa. È il più alto grattacielo al mondo che chiaramente ha lo scopo principale di essere una gigantesca attrazione turistica e questo si trova in molti posti. A Kuala Lumpur con le torri Petronas eccetera eccetera. Ma una cosa è chiarissima ed è una costante ed è la rapidità del cambiamento. Pensavo sbagliando che il cambiamento fosse molto rapido soltanto nella tecnologia e nelle tecnologie di cui mi sono sempre occupato che sono le tecnologie del software. sbagliavo. Il cambiamento è rapido e avviene anche nelle infrastrutture fisiche e nelle città. Visitando una città come New York, come Dubai, come Hong Kong a cinque anni di distanza si trova molto spesso qualche cosa di completamente diverso di quello che si era incontrato cinque anni prima. Quindi non si può dare un giudizio. Ogni città presumibilmente si svilupperà sulla base di un DNA che è in qualche modo antico e nuovo.